Un saluto a tutti gli amici di Città Celeste, da Ronzo Di Cadore oggi giornata di presentazione in Casa Lazio che si è trovata al completo questa sera sul prato dello Zandegiacomo. Sono stati presentati in ordine lo staff tecnico, i portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, poi il mister Sari e il presidente Lotito. Di seguito le sue parole. L'Una Maglia numero 5! Supportate la nostra squadra, vi darà delle grandissime soddisfazioni. Sono dei bravi ragazzi, determinati uniti, che lottano e combattono per i nostri valori, che sono i valori del merito, del rispetto e soprattutto la voglia di dimostrare che siamo la prima squadra della capitale!